...di questo sporco zombo... Finalmente il corriere! Deve essere un frullatore! Un tablet? Un tablet? Un tablet? Ma che sei scemo, mi hai fatto paura! Ah, ci siete proprio tutti! Benvenuti, youtubers. Io sono il dottor Ago, creatore di questo universo virtuale. Quest'oggi, sarete messi a dura prova. Che il gioco ha inizio!